Arrivano, nonostante l'emergenza sanitaria in piazza, i ciclamini, fiore simbolo della Disco, associazione donatrice italiana e sangue cordone umbilicale, che non potendo, come ogni anno, incontrare la popolazione brindisina per informarla su numerosi passi avanti che la ricerca ha fatto nell'uso delle cellule staminali contenute nel sangue del cordone umbilicale, ha scelto di adottare l'aiuola alle spalle di Piazza Vittoria, decorata proprio con i fiori ciclamino, che simboleggiano il cuore dell'associazione. Ecco, è una bellissima iniziativa soprattutto da parte della Disco, un messaggio, come vedete, un messaggio d'amore, perché oltre ad averlo riportato in questo cartello che hanno fisso qui, lo hanno anche rappresentato proprio nella distribuzione di queste piante di ciclamini. Tutte le loro qualità sono intorno, ma quello che spinge tutto questo è il simbolo che è qui, centrale, cioè questo cuore di ciclamini che sono proprio un gesto d'amore. Noi abbiamo avanzato una richiesta al sindaco e gli abbiamo pregato di dare un'aiuola che fosse visibile, in particolare vicino a Piazza Vittoria, perché noi ogni anno abbiamo venduto i ciclamini proprio in questa piazza. Quest'anno la pandemia ci ha impedito di fare questo evento, di celebrare la Disco e di diffondere il messaggio della cultura del dono, del sangue cordonale. E allora l'idea ci è venuta di lasciare un messaggio fisso e abbiamo noi, come noi dell'associazione, acquistato queste piante, ieri le abbiamo sistemate. Diciamo che negli ultimi tempi l'azione di a Disco si sta rivolgendo anche nell'utilizzo di quelle sacche che non vengono bancate perché non hanno una cellularità di un miliardo e 600 milioni di cellule, quello che non viene bancato viene utilizzato per la ricerca.